si occupa del pallone, parte velocissimo il tiro! mamma mia che gol! ingresso in campo terza giornata torneo super 8 che vede affrontarsi sparta contro rione alto squadre che ora si schierano lì al centro del manto erboso per il saluto ai propri tifosi formazioni che ora passano a darsi il 5 sparta in completino grigio mentre il rione alto in completino arancione l'albitro del match alessandro passarella che ora chiamerà sì i due capitani che sorteggeranno il tocco per la palla per il campo capitano sparta che ora che questa sera si sacrificherà a porta sorteggiato palla e campo sarà iniziale un saluto da buon tempo tra sparta e rione alto risultato di 1 a 0 per lo sparta che ha iniziato subito alla grande con i fuochi d'artificio 1 e 0 per loro ora seguiremo tutto il primo tempo subito alla prossima 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 subito la tua puntata subito alla prossima subito alla prossima subito alla prossima Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.